a me non è mai dispiaciuto anche il lavoro agricolo io ho lavorato tanto però mi è piaciuto a me ero molto attaccato ai lavori della terra alle bestie a quella vita semplice e mi è piaciuto tanto io non ho fatto fatica a lavorare ora ne ho fatto tante quando si discuteva magari anche diciamo così qualche volta si faceva un pochino di festa alla domenica si discuteva che in agricoltura si guadagna poco io dicevo ma io guadagno la metà di quello ma faccio al doppio oro quindi quindi il guadagno è come il tuo dopo tutto perché mi mi dicevano anche che gli agricoltori tu hai comprato un terreno così e dico io non sono andato al mare io non ho avuto tempo di spenderli quindi quei pochi io ho incrementato diciamo il patrimonio della mia azienda ecco finita la guerra eravamo stressati qualcuno ha sofferto fame noi con la piccola azienda agricola c'era un po di segale facevamo il pane in casa patate si riusciva avere un grosso maiale piano piano si allevava il maiale proprio fame ma una grande economia c'era un allegria sproporzionata con niente si faceva festa quando penso a quei tempi mi sembra che adesso esageriamo un po a piangere miseria ecco vogliamo troppo vogliamo troppo